Buongiorno, questa è la prima mostra di conigli a Gattinara, abbiamo portato tutte le 42 razze dello standard nazionale, cioè in pratica in questa mostra si possono vedere tutte le razze che sono riconosciute in Italia, sono tutti iscritti all'albo genealogico nazionale e sono presenti soprattutto anche le razze in via distinzione, come potete vedere questo bellissimo rieto inglese, che ce ne sono pochissimi esemplari in Italia. Colgo l'occasione, dato che mi è stata data questa opportunità, di ringraziare tutti quelli che hanno aiutato questa manifestazione, soprattutto per quanto riguarda l'amministrazione comunale, che è stata molto sensibile alla mia proposta, che non mi aspettavo che un comune, quando si presenta un allevatore a fare una proposta di questo genere, trovi campo aperto in questo modo e ringrazio veramente tutti. Per quanto riguarda l'alimento dei conigli, posso dire che allevo conigli da più di 40 anni, ho raccolto tutte le razze di mia distinzione e organizziamo queste belle cose da far vedere un po' tutti le varie razze, mi aiutano altri miei amici allevatori per poter mettere insieme tutte queste cose e alleviamo dal gigante, arrivare fino ai piccoli nanetti, con tutte le razze partecipiamo a varie mostre, andiamo ad acquistare gli animali all'estero, sia in Austria che in Germania e selezioniamo per arrivare ad avere appunto tutto quello che è la nostra collezione di coniglie. Basta, basta. Fino a un minuto rego, due no. Fino a un minuto rego, due no. Fino a un minuto rego. 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 Fino a un minuto rego.